Controlli dei carabinieri nel rione Moscarella, Castellammare di Stabia. I militari della locale compagnia hanno setacciato le palazzine popolari prestando massima attenzione alla ricerca di armi e droga. In un pozzetto dell'8-5 l'ha scoperta. Avvolta in un panno sporco due pistole, una beretta P38 con matricola Brasa e una Browning e ancora 14 proiettili calibro 38 special, 48 dosi di marijuana, 10 di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato, le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.